7 punti nelle ultime 3 partite, sembra aver decisamente svoltato la stagione del Belluno nonostante i gialloblu continuino a stazionare in zona play-out. Stavolta il polisportivo non passa neppure il campo d'Arsego, bloccato su 2-2. Subito avanti i padroni di casa con il secondo gol consecutivo firmato Zigon. Poi nel primo tempo rimonta Padovana, Zane trasforma alla perfezione due calci di rigore. Nella ripresa è Corbanese a firmare il pari, sfruttando un cross di Mosca. Poi più tardi Masoc colpisce la traversa da fuori. Insomma senza dubbio un pomeriggio positivo, considerando la forza degli avversari. Guarda Mariko c'è perché sei in vantaggio, vai sotto per due rigori, che ci sia o no, non ha più importanza. Il primo tempo ha fatto meglio loro, secondo me perché sono un'ottima squadra. Non hanno creato occasioni ma ci hanno fatto sicuramente correre. Il secondo tempo invece mi ha fatto molto meglio noi. Abbiamo fatto il pari, abbiamo fatto la traversa. Un po' di Lamarico sicuramente c'è perché la partita negli ultimi 20-25 minuti potremmo vincerla. Poi con l'espulsione dobbiamo comunque accontentarci. È comunque un trend positivo, 7 punti in tre gare, siamo sulla strada giusta. Ma sì, è un pareggio come tanti altri pareggi, molto equilibrati, perché questo campionato è così. La squadra sicuramente c'è, può migliorare, può fare meglio, però lo spirito esiste e dunque noi continuiamo. Grazie.